Sì, diciamo che questo è il primo passo ma tutta l'area verrà riqualificata perché questo vede che ci sarà anche il recupero del Regina Margherita che sta all'interno di questo stesso spazio. Per l'Asp invece è il primo passo rispetto a quel piano di risanamento che è stato messo in atto e che attraverso l'asilo insomma rappresenta anche uno dei punti di forza. Questo lavoro è intorno ai 2 milioni di euro, sono tutti finanziati ovviamente dal sisma, però diciamo che la progettazione ovviamente al di là che è stata gestita l'USR però è stata fatta secondo le nostre indicazioni. Questo è un asilo che praticamente ospiterà 60 bambini che sono circa la metà da 0 a 3 anni e l'altra metà da 3 a 6 anni. Poi la caratteristica di questo asilo è che comunque sarà un asilo green perché avrà tutte le caratteristiche, ci sarà risparmio energetico, insomma è una cosa anche innovativa rispetto diciamo a quello che è un problema anche su cui noi puntiamo appunto perché le utenze e tutto ciò che concerne i costi oggi di qualsiasi struttura possono essere abbattuti attraverso i risparmi energetici che noi mettiamo in atto attraverso l'efficientamento. Secondo me, per quella che è la mia esperienza, un cantiere del genere considerando che la struttura verrà fatta tutta a secco quindi con cartongesso e con pannelli potrebbe in un anno, anno e qualche mese secondo me essere terminati i lavori.